Buongiorno Giuseppe, mi torno da Mondragona, come tutte le volte che si esce, che si va in bicicletta, giro a Mondragona, 80 km, abbiamo fatto un pochettino qui al lago Padre, abbiamo fatto un'andatura un pochettino sostenuta, qualche amico purtroppo non ce l'ha fatto, è rimasto un pochettino indire, però voglio dire, comunque è uno che ci mette impegno, la volontà, la grinta, purtroppo le sue porte sono limitate, e niente, ci deve riprovare ancora un'altra volta, Giuseppe, ho incontrato Pino 36, ti mando i suoi saluti, ti ringrazio Erika, mi saluto a Pino 36, quel carissimo amico, allora, Vicente, Pino 36, voglio approfittare per farci gli auguri della bellissima vicinuletta che... Infatti stavo con la sua di rosa stamattina, mi ha parlato che tu ne stai preparando un'altra per il 2015? Sì, sto preparando la mia bici per il 2015, sarà una sorpresa, ho messo già qualche foto sul Facebook, però si deve vedere completa la bicicletta, nel momento non è completa, quanto sarà completa, la faremo vedere a tutti gli amici, gli amici che fanno i bicicletta E questa che ne farai? La darai in Bermuda? Ma questa sicuramente, ce ne ho due veramente, mi tolgo tutti e due e faccio una sola bicicletta Se qualcuno è interessato, l'abbiamo anche incontrato, se qualcuno è interessato... Prendessi Fondries, il Presidente Giulio Paolo, una bicicletta garantita... Mi trovo con Pasquale e Ponte Rico, dopo tanto tempo non lo rivedevo, c'è Pasquale, ho piaciuto di averti visto, sei sempre in forma, anche stavo parlando che esce del pomeriggio Questo, quel paio d'ore è giusto per mantenere la capa, visto che la stagione agonistica, per qualcuno, quasi è terminata, non è per me perché non ho fatto le capi, però è importante di aversi allenato anche in modo normale Questo è già le mie settimane, il capo Grazie a tutti